Buon pomeriggio. Parlare del metodo scientifico non è mai semplice. Però credo che abbiamo superato nello scorso incontro i nodi più importanti. Oggi io parlerò delle altre scienze. Non ci sono soltanto l'astronomia e la fisica. Voglio dire che nel Settecento si apre un palcoscenico nuovo per altre discipline. Non a caso noi cominciamo da una sorta di registrazione del trionfo di Newton nel diciottesimo secolo. In Francia in particolare. Infatti il primo momento nel quale la Francia conosce Newton è attraverso le lettere filosofiche di Voltaire che escono nel 1734. In realtà non è che Voltaire parlasse solo di Newton. Voltaire parlava della filosofia inglese visto che era stato esiliato in Inghilterra e aveva salvato così la pelle andandosene dalla Francia e lavorando in Inghilterra con Locke, con Newton, incontrando anche Newton. Quindi quando torna in Francia racconta qual era lo stato della filosofia in un'altra situazione nettamente più avanzata della sua. E ovviamente non si limita Voltaire a questo ma insieme a Madame de Châtelet con la quale aveva rapporti di studio, di lavoro, di amicizia molto importanti sarà Madame de Châtelet, socia della nostra Accademia come Voltaire peraltro sarà Madame de Châtelet a tradurre in Francia i Principia. Avrà non successo enorme, Madame de Châtelet si occuperà in altro modo anche di Newton poi purtroppo la sua esistenza non fu così lunga da consentirle di affrontare anche i grandi temi dell'ottica che avrebbero interessato la cultura francese molto più di Principia nelle seconda fase del secolo lo salvo ma lo vedremo la ripresa della PLAS proprio nella fase terminale del Settecento. Poi ovviamente vedremo anche nella prossima immagine anche un punto di riferimento centrale che è quello dell'impresa di De Roi, di D'Alembert e cioè dire il grande tema dell'Encyclopedia è un'imponente opera che caratterizza il Settecento e che è ispirata interamente alla filosofia forse interamente non è la parola esatta ma in maniera principale alla filosofia di Newton dicevo principalmente no per una semplice ragione perché proprio alle soglie della rivoluzione scientifica l'Encyclopedia fa una rassegna delle arti e delle scienze ma di quelle del mondo diverso non di quello della rivoluzione, del mondo prima quindi ci dà un'immagine dettagliata e precisa di che cos'era lo sviluppo scientifico, tecnologico e il ruolo delle arti meccaniche a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo poi l'Encyclopedia sarà pubblicata a rate per così dire perché ovviamente la censura la blocca e nel momento in cui la censura blocca i volumi degli articoli dell'Encyclopedia nasce l'Encyclopedia delle tavole quella che rappresenta le arti e i misteri avrebbe dovuto essere, ma consistere in dei volumi alla fine sarà più di 12 volumi perché ovviamente nasce, come dire, il duplicato dell'Encyclopedia, quella che era in qualche modo la rappresentazione di un mondo nel quale le scienze tecniche tentavano di combinarsi beh, poi ci sarà, non è riportato qui anche un intervezzo molto importante che è quello di Buffon beh, qua il problema di Newton è quello di saltare i paradigmi lo vedremo dopo, ma intanto in Buffon e nell'Encyclopedia vediamo che salta un paradigma quello del diluvio universale quello di tutta la cultura legata alla tradizione biblica cioè Buffon dirà no, un momento ci sono state nella storia della Terra delle rivoluzioni ma non abbiamo notizia di una rivoluzione tale che abbia sconvolto la Terra così come la Bibbia ce la racconta ma io ho messo tra queste opere anche uno stanno scritto almeno dal titolo il Newtonanismo per le dame e che sono i dialoghi che sulla luce e sei colori che saranno composti da un personaggio che ha abitato a lungo queste stanze e cioè Francesco Algarotti e Algarotti era un diciamo così uno scrittore di varie umanità non si occupava soltanto di scienza anzi principalmente non si occupava di scienza però scrive questo librettino dando un titolo sembra quasi così in qualche modo leggero per le dame perché ormai Newton era conosciuto da tutti ho parlato prima di Madame du Châtelet era una dama era una dama illustre ma non era la sola che si era occupata di questi argomenti beh Algarotti è in qualche modo un allievo di questo istituto si muove tra Venezia, Bologna eccetera ma Algarotti diventa attraverso questo libretto un interlocutore importante della Royal Society dunque non era uno scienziato era un poligrafo era un attento scrittore la Royal Society era il luogo della scienza ufficiale inglese vedremo dopo qual è l'importanza che avrà per noi la Royal Society e ovviamente mi consente questo riferimento da Algarotti di arrivare a riflettere ancora un po' su quella che è stata la partecipazione di questo istituto delle scienze alla rivoluzione scientifica o alla parte estrema della rivoluzione cioè dire alla parte della rivoluzione newtoniana preferirei chiamarla così perché ovviamente la fase che precede Newton è una fase dal punto di vista scientifico come abbiamo visto molto interessante e tuttavia l'esplosione della scienza galileiana di quella newtoniana e dei suggerimenti chepleriani interviene nella seconda metà del Settecento e ovviamente essendo arrivato Newton per ultimo è Newton il punto di riferimento più importante il problema è molto semplice questo istituto nasce a Bologna non in contrapposizione ma nasce come altro aspetto altro luogo ovviamente ognuno può usare i termini che vuole non ho usato termini di contrapposizione certo non era la stessa cosa all'archiginnasio si insegnava la medicina la filosofia e quant'altro ma secondo i vecchi canoni dello studio qua c'erano invece i laboratori scientifici il povero Marsili li aveva raccattati presi mandati a Bologna ai suoi amici inquieti durante tutti gli anni della permanenza sulla fronte danubiano sul fronte di guerra era un ingegnere militare o meglio era un uomo di scienza che veniva da un illutto scuola non si era laureato ma non è importante a Bologna è accaduto anche ad altri di non laurearsi di essere geni universali quindi non era una novità perché? perché il padre lo manda a Roma quando sta per finire gli studi lo manda a Roma lo manda a trovare una collocazione adeguata al suo rango ma Marsili era in corrispondenza con i maestri bolognesi era in corrispondenza con Guglielmini Marsili con altri che venivano da un'esperienza diversa ecco il punto della saldatura a Bologna che è importante cogliere tra Galilei e Newton perché in mezzo c'è la figura di Malpighi io vorrei che venisse in qualche modo ricordata e anche studiata perché Malpighi non è soltanto l'allievo degli allievi di Galilei ma è colui che ha inventato la fisiologia microscopica l'analisi microscopica dei tessuti lo vedremo tra un momento Malpighi è diventa nella sua fase matura di produzione un punto di riferimento della Royal Society allora voi pensate che le opere di Malpighi da un certo punto in avanti vengono pubblicate direttamente dalla Royal Society a noi piacerebbe avere le opere pubblicate dall'Osford University Press tutti i giorni ecco in realtà Marsili ha l'opera quasi l'opera postuma l'opera omne pubblicata a cura quindi voglio dire con i soldi e con gli interessi e con l'avallo della Royal Society è l'uomo dell'anatomia sottile Marsili è l'uso dello strumento del microscopio lo strumento di Galilei rovesciato è molto di più è un microscopio che consente consente a questo punto di un percorso apre un percorso a Marsili insieme al metodo scusate a Malpighi insieme al metodo che aveva ereditato e che aveva in qualche modo discusso con Borrelli grande scolaro di Galilei e sarà Borrelli in qualche modo a guidare la carriera di Malpighi che a Bologna non è fortunata come quella di molti incomincia a avere a Bologna ma poi va a Pisa a Pisa che era la culla del galileismo quindi da Borrelli poi di nuovo a Bologna ma pieno di polemiche pieno di risentimenti per varie ragioni il maestro Borrelli gli trova un posto a Messina sembra che lo pagassi il doppio ma in ogni caso va a Messina eh voi capite che Messina non era a Bologna non solo per l'università ma per il contesto culturale nel quale Bologna in qualche modo si era mossa nel momento della rivoluzione della prima rivoluzione scientifica tornerà poi a Bologna ma poi andrà a fare l'archiata al pontificio di Innocenzo XII e quindi Bologna per lui diventa un punto di riferimento molto meno importante beh io poi inviterei che è curioso andare a guardare un lavoro strepitoso e ha fatto Howard Adelman cinque volumi di studi sulla fisiologia di di appunto di Marcello Malpighi beh che ci racconta eh ci racconta molte cose io sarò cercherò di essere il più breve possibile ci racconta quello che è per Malpighi la medicina razionale la natura per esecitare cito le mirabili operazioni negli animali e nei vegetabili si è compiaciuta di comporre il loro corpo organico con moltissime macchine le quali configurate e situate formano un mirabile organo la cui struttura e composizione con gli occhi nudi e senza aiuto del microscopio per lo più non si arriva anzi non si arriva a vedere anzi è molto di grande importanza e molte di grande importanza sfuggono per comporre tutte le cose che noi abbiamo sotto gli occhi e che possiamo osservare la natura si è servita di parti piccole cioè di sali di filamenti somiglianti e con queste minime compone tutte le cose tanto grandi di mole come piccole nei viventi poi si serve dei fluidi che sono composti di piccolissimi corpi eccetera eccetera l'uomo esaminato esaminando queste parti con l'anatomia con la filosofia con la meccanica si è impossessato dell'uso di esse procedendo anche a priori ed è arrivato a fermare modelli con i quali pone sotto l'occhio la causalità di quell'effetto e ne rende la ragione a priori con la serie di queste è aiutato dal discorso e per discorso Malpighi intendeva il modo di operare della natura abbiamo più volte cercato di definire questo termine fonda quella che è la fisiologia la patologia e successivamente l'arte della medicina in definitiva Malpighi ha punti di riferimento con Galilei meno con Newton molto con Bacone con Francis Bacon ha punti di riferimento molto importanti e ripetutamente chiamati in causa perché Bacone occupandosi di medicina aveva aveva proposto le tre forme dell'anatomia l'anatomia dell'uomo dell'anatomia delle piante e l'anatomia microscopica e l'anatomia sottile e quindi nel de pulmonibus nel de viscerum struttura eccetera eccetera fino all'anatomia plantarum Marsili è l'uomo che in qualche modo taraghetta la scienza bolognese dalla sponda galileiana a quella newtoniana in che senso? Beh in un senso molto molto elementare aveva i sogallievi e i sogallievi erano i protagonisti della preistoria dell'istituto cioè i protagonisti dell'accademia degli inquieti e Marsili e Manfredi e Trionfetti sono coloro che poi verranno in rapporto con Marsili aiutati a costruire una forma di lettura della natura che non avrà l'esito nello studio del quale erano professori ma avrà un esito nei laboratori che erano stati collocati sopra questo palazzo che era considerato un palazzo di periferia difficilmente utilizzabile e affidato a Marsili per stabilirvi il suo il suo istituto e quindi incomincia un'avventura Marsili come bacone non è padre di nessuna di nessuna grande invenzione ho detto non si era neanche laureato aveva girato l'Europa diventa socio della Royal Society non lo si diventa caso la Royal Society dà a Marsili il finanziamento per scrivere il prodormo della Danubius Pannonicus Musicus Pannonico Musicus cioè a dire dell'analisi dettagliata di tutti gli elementi del Danubio dalle acque alla flora alla fauna alle montagne ai minerali eccetera uno studio profondo sul Danubio è stato fatto in questi sette volumi che Marsili è riuscito faticosamente a concludere alla fine gli era diventato anche l'istituto che aveva fondato gli era diventato nemico per cui fece fatica anche a recuperare le tavole che aveva regalato al suo istituto per pubblicare la sua opera per pubblicare la sua opera appunto che è il Danubius ma Marsili non si accontentava di questo nel momento in cui come dire la vita lo porta altrove da Bologna lascia un po' il suo istituto lo lascia un altro padre nobile che è Benedetto XIV Marsili si ritira nel sud della Francia e osserva il mare ha osservato le acque ha sempre studiato le acque da quando ha studiato le acque del Bosforo quando era un giovanotto il testo pubblicato poi con il patrocinio della principessa di Svezia Cristina di Svezia che era una sua protettrice studia l'histoire physique della merda che Boerav recensirà in maniera straordinaria come risulta della premessa se qualcuno è curioso di andarsela a leggere non c'è ancora tradotto in italiano tranquilli in francese però ora che succede? succede che Marsili segue Boyle ma Boyle è convinto che il fondo del mare è un fondo senza arrivi è un fondo che non può essere studiato e Marsili studierà il fondo del mare lo farà in un mare comodo ma in sostanza ci dirà che la prosecuzione della scorsa della terra è quella che si trova sommersa dal mare e il mare ha fatto negli sconvolgimenti della terra si è collocato in più parti e quando venivano trovati i fossili sulle Alpi non erano i residui come diceva la leggenda dei pellegrini che tornavano dalla terra santa e perdevano i fossili per la strada era una cosa più semplice era stato il fondo del mare quel punto lì in quel punto lì c'era stato il mare poi ovviamente le rivoluzioni della terra avevano compiuto i loro i loro effetti e qua il problema dell'istituto è un problema serio perché questi studiosi si mettono a lavorare davvero poi Marsilli ne era scontento ma era un po' scontento di tutto quindi quando via si lamenta che Beccari non aveva ancora il suo laboratorio di chimica eccetera eccetera la chimica era una cosa molto importante e a questo punto il problema era quello ancora della ripresa della ripresa di di alcune attività che sono poi riportate puntualmente nei commentari era il segretario Perpetuo Zanotti che si scriveva si appuntava gli elementi fondamentali dei dibattiti e poi si li scriveva e ovviamente punti di riferimento sono parecchi lo stesso Algarotti vedremo che ricomparirà ricomparirà lo stesso Algarotti perché Algarotti era stato uno dei pochi che aveva avuto un libro newtoniano messo all'indice perché all'indice il newtonianismo per le dame perché c'era che di quello di Voltaire perché in definitiva Algarotti pensava che Newton e Locke fossero più o meno due facce della medesima medaglia di una grande filosofia e però quella era la filosofia che aveva degli sbocchi possibilmente materialistici che alla chiesa non non era in armonia con il dettato della chiesa e quindi Algarotti viene messo all'indice non avrà nessuna conseguenza ma viene messo all'indice io voglio fermarmi solo su tre aspetti li tratterò in maniera molto rapida perché voglio fare voglio dire altre cose in questo nostro incontro e cioè a dire che cosa contengono di così importante i commentari beh i commentari io direi che quando ne ho come dire studiato la composizione costituiscono una sorta di enciclopedia naturalistica molto 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 importante in tali punti meno in altri ma tre argomenti ho selezionato uno è che sono corrispondono a tre momenti topici dello sviluppo della scienza newtoniana il primo è l'elettricità questo è un'immagine che riproduce un'opera fondamentale per i bolognesi e Laura Bassi cioè a dire i punti più forti che riguardano la fisica elettrica il fluido elettrico bene qua ovviamente Franklin è un punto di riferimento positivo non l'è col doppio fluido è un punto di riferimento negativo la bottiglia di lei del condensatore diventa lo strumento fondamentale e intorno al tema dell'elettricità si cimentano più o meno tutti i bolognesi Veratti quella atmosferica Galvani quell'animale Laura Bassi Spallanzani e altri con Giappatista Beccaria invece studiando il fuoco elettrico proprio la come dire le origini della dell'energia del fluido elettrico e quindi la questione diventa una questione molto importante perché in qualche modo salda la fisica con la chimica con la medicina cioè diventa un momento come vi ho forse detto altre volte di sopra vi erano dei laboratori scientifici comunicavano uno con l'altro e i professori che venivano qui di pomeriggio a fare le ostentazioni a fare le dimostrazioni pratiche con gli strumenti parlavano tra di loro nello studio non accadeva ma qui accadeva quindi Beccari Galvani Laura Bassi e altri discutevano qui sopra di elettricità e di elettricismo ovviamente a Bologna darà un grande risultato l'elettricismo sarà l'elettricismo animale sul quale poi tra un po' ritorneremo ma ovviamente dà anche origine a una discussione che va oltre Bologna pensate soltanto ai rapporti Galvani-Volta che sembrano a un certo punto essere i medesimi poi invece ci sarà la svolta Galvani andrà verso la fisiologia neurologica e Volta andrà verso la pila elettrica e quindi però c'è un punto potrei dilungarmi a spiegare quali sono gli esperimenti che vengono fatti ma vi rimando agli studi che molti studi sono stati fatti vi ricordo che ci sono una decina di libri alcuni autori sono anche qua dentro e si sono occupati proprio degli esperimenti narrati dai commentari quindi che hanno scritto quattro ponderosi volumi sulla storia dell'Istituto delle Scienze dell'Accademia nel Settecento io sull'elettricità non dico altro dico solo che diventa la scienza dell'Ottocento l'elettricità diventa cioè l'energia elettrica diventa uno dei punti cruciali della rivoluzione industriale nell'Ottocento e direi che il problema della trasmissione a distanza dei segnali che Galvani coglie beh a Bologna ha una grande storia è Pacinotti è Righi è Marconi cioè dire c'è un problema di continuità non ovviamente di come dire accademica di continuità di argomento e quindi l'elettricità che a Bologna incomincia sotto gli aspetti dell'elettricità atmosferica il fulmine e dell'elettricità animale diventa uno dei punti focali ma perché lo diventa perché nel primo ottocento le accademi europee hanno ripetute tutti gli esperimenti di Galvani pensate soltanto chi li ripete all'Accademia des Sciences di Parigi non Ampera che studierà per conto suo l'elettricismo ma Von Humboldt Von Humboldt verrà chiamato e comporrà due volumi straordinari sulle esperienze di Galvani qui ovviamente poi le esperienze di Volta hanno un'altra storia e arrivano a Edison arrivano da altre parti e comunque la disputa sull'elettricismo incomincia in questa in questo luogo un secondo punto è quello della medicina qui mi rivolgerei ai colleghi medici muscoli o nervi perché il problema era questo irritabilità o fisiologia nervosa cuore o cervello se salite di sopra al museo trovate una cera in cui la manzolini riterà se stessa e ha in mano con tutte le collane il cervello mentre suo marito ha in mano un cuore sono i due aspetti della disputa che si apre a Bologna nella medicina tra coloro che seguono le teorie e le dottrine di un illustre come Albert Von Haller che era appunto un sostenitore dell'irritabilità e l'irritabilità è la ragione la causa unica dei movimenti volontari dirà Von Haller nonché base di tutta la vita animale ma gli esperimenti dei chimici dei medici risponderanno in un altro modo e a portare il movimento nei muscoli e nel corpo saranno i nervi e che un muscolo appunto non avrà nessuna nessuna reazione mentre invece un nervo un nervo che trasmette al muscolo il movimento che corre che porta con sé dell'energia è l'elemento che in qualche modo sostituisce anche i riferimenti all'anima se andate di sopra sempre nella sala delle cere della manzolini la manzolini ha ritratto ha rappresentato alcuni di questi momenti ma ha rappresentato una cosa fondamentale gli organi di senso e non li ha rappresentati solo perché gli organi di senso erano i momenti in cui si capiva bene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso il nervo perché erano diventati un luogo della filosofia fondamentale del settecento qualcuno ha sentito parlare del sensismo sì sì i sensi della statua della statua con diac che si rianima progressivamente beh in questo caso voi come sapete Galvani fu anche un po' messo sotto accusa perché che ne aveva fatto dell'anima era un terziario francescano questo non gli ha impedito di essere in qualche modo confinato dalla chiesa lungamente l'edizione delle opere di Galvani saranno ripubblicati in questa accademia verso metà ottocento da Silvestro Gerardi Silvestro Gerardi ateo e eroe della Repubblica Romana presidente di questa accademia pubblicherà le opere edite e inedite di Galvani molto tempo dopo ma nel frattempo Galvani aveva anche fatto un altro atto se n'era andato quando Napoleone ha sciolto l'accademia quando Napoleone ha riformato all'università Galvani non ha accettato l'epoca Napoleone che si è ritirato in una casa vicina all'osservanza dove ha lavorato fino a tarda età su le sue cose era lentissimo lavorare Galvani perché Galvani nel 1770 aveva già pronto il De Viricus un libretto da Nobel così lo pubblica nel 1789 poco prima che venisse sciolta l'accademia una delle ultime opere dall'accademia è il De Viribus Electricitatis in moto muscolari da questo punto di vista direi che l'accademia non si smentisce neanche su un altro argomento che è quello della luce è un argomento che viene quasi per primo ma io l'ho collocato qua perché è quello che ci collega poi meglio alla situazione otocentesca l'ottica l'ottica io ti dicevo che mentre vedremo una ripresa dell'ottica da parte dei chimici vedremo una ripresa dei principi da parte dei fisici e sarà la plastica il grande campione ma lo vedremo tra poco a questo punto tal Rizzetti se non mi inganna questo non è il nome cartesiano pensa che l'ipotesi anzi la proposta ipotesi non si può usare la teoria newtoniana dei colori non sia adeguata newton aveva criticato cartesio la luce non è in colore perché non proviene da un mondo pieno ma è multicolore perché deriva dal movimento dei corpi lo per farlo newton usa dei dei cristalli degli spati di slanda fa passare il raggio di luce attraverso i cristalli che lo scompongono e ne ripropongono i movimenti su uno schermo lo vedete là in fondo e questo argomento è un argomento abbastanza abbastanza per l'accademia abbastanza vicino alle origini perché mi sembra che se non ho colto male siamo nei primi anni della nei primi decenni del settecento quando Rizzetti propone appunto questo esperimento le cose sembravano quindi concluse Gianotti fa una fa una un riassunto della della questione dicendo che insomma non c'erano né vincitori né vinti perché poi l'esperimento si era andato bene ma forse gli spati di slanda non erano quelli giusti e nel trentaquattro Algarotti ritorna e lo riprende Algarotti è convinto della teoria newtoniana viaggiava tra Bologna e Londra insomma come dire l'ambiente colto l'ambiente scientifico colto europeo era per newton ripete l'esperienza quindi prende cristalli che Vandelli uno studioso di Bologna gli propone andate in Islanda a prenderli fa l'esperimento e l'esperimento mostra come il problema della scomposizione della luce deriva da una semplice da un semplice che il raggio che passa scomposto è la testimonianza della concezione atomistica che newton ha dell'universo non ha una concezione non condivite vortici cartesiani non pensa che in tutti i movimenti siano determinati da un movimento pieno in cui i corpuscoli si muovono tutti insieme e quando poi non si muovono più verrà il dio orologiaio che li metterà a posto secondo newton il problema è diverso i corpi si attraggono sia i corpi celesti sia gli elementi di materia minimi e quindi l'attrazione dei corpi provoca il loro movimento il loro urto determina i colori quindi la posizione di sarà un po' questa beh poi l'accademia si conclude conclude i suoi lavori l'istituto anche perché Napoleone fonda l'istituto nazionale che ha Pavia di cui l'accademia diventa una sezione soltanto nel 1839 riprenderà un'attività da accademia e sarà il cardinale Pizzoni a promuoverla ma intanto a Bologna nasce l'università allora molti hanno detto sì è il vecchio studio che si trasferisce dall'archiginnasia qua anche per idea perché Napoleone chiude l'archiginnasia come chiude molte università francesi e individua questo palazzo ma non perché fosse meglio dell'archiginnasia perché c'era nei laboratori perché la sua università era un'università esemplata sulle colpolitechnique e alle colpolitechnique la ricerca di base c'era ma era poca c'era la ricerca applicata c'era la ricerca che aveva degli scopi che non erano soltanto l'avanzamento del sapere ma anche l'utile militare sociale e quant'altro quindi Napoleone qua mette e da questo punto di vista poi lo dicevo la la riflessione di Carducci all'ottavo centenario quando ci dice che poi i professori del vecchio studio diventano i primi professori dell'università non è vera cioè nel senso che coloro che insegnano all'università si erano formati dopo gli anni settanta a Bologna e l'istituto delle scienze dopo gli anni settanta non è più neanche quello di Benedetto quattordicesimo è già come ho detto già a ridosso della cultura europea della cultura scientifica europea e ovviamente qua c'è una grande scuola di medicina Lani è l'esponente ma da Mondino di Leuzia a Berengario da Carpi a Alderotti qua Bologna è maestra della medicina e quando Malpighi individua e Morgagni lo seguirà poi da vicino individua l'anatomia sottile fatta con il miroscopio passa attraverso passa un altro stadio Lucio Cocco può venire qui sostituirmi a me ma passa all'anatomia cellulare alla 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 lettura dei componenti di quella macchina o di quelle piccole macchine che costituiscono l'organismo finisce qui una storia e finisce anche in Francia perché in Francia ovviamente abbiamo i due ultimi newtoniani io li riassumo in termini molto secchi perché sono uno è Lavoisier che ovviamente non ha avuto una fortuna grande dalla sua nella vita gloria scientifica dopo decapitato dalla ghigliottina prima però fa in tempo a scrivere il trattato elementare di chimica e chi si va a leggere il discorso preliminare del trattato elementare di chimica scopre qual è la novità immensa di di Lavoisier che è quella di creare una tavola di elementi che stanno sulla base quantitativa piuttosto che su quella qualitativa e inoltre c'è un problema che attraverso delle analisi dettagliate non solo si associa alla PLAS nel momento in cui sembra quasi che canta la PLAS e Lavoisier trovino un elemento importante che come dire che rivoluziona la la possibilità di utilizzare gli elementi e Lavoisier arriva alla scomposizione dell'acqua l'altra volta vi dicevo semplice parlare con Aristotele con la Bibbia del moto della gravità del peso senza Aristotele e senza la Bibbia bisogna inventarli da capo e qua si trovano di fronte alla scomposizione dell'acqua per quanti secoli l'acqua era stata considerata un elemento non decomponibile ulteriormente viene scomposta e quindi la 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 chimica ossigena di Lavoisier adesso stanno studiando Mendelef in questa e quindi immagino che ci sarà spazio anche per una riflessione su le origini eh delle delle vicende eh chimiche settecentesche moderne nuove innovative ma l'uomo che ci interessa di più in questo momento è Laplace e ovviamente Lavoisier non ha avuto la possibilità di approfondire i suoi studi lo hanno fatto altri la chimica francese ha avuto un glorioso ottocento voglio parlare per qualche minuto di Laplace ora Laplace scrive nel mille settecentonovantasei pubblica l'esposizione del sistema del mondo il lettore dell'esposizione del sistema di un mondo rimane senza parole perché perché Laplace riesce a mettere in fila e dimostrare e rendere credibili tutti i luoghi del sistema di Newton anche quelli sui quali Newton aveva espresso dei dubbi aveva detto ipotesi di un fingo a un certo punto e quindi si era fermato Laplace non non si ferma da questo punto di vista glorifica il principio il principio di uno che rende possibile la previsione degli eventi futuri con la stessa sicurezza con cui si spiegano i fenomeni presenti regolari e irregolari era un mago assolutamente no dirà che perché una teoria risulti estremamente probabile quella di appoggiarsi a un numero piccolissimo di ipotesi e quello di spiegare il maggior numero possibile di fenomeni a questo punto aveva compiuto il passo uno studioso contemporaneo che Michel Serre nel commentare il libro di Laplace dirà la cartografia è di nuovo simmetrizzata da una storia a una storia dell'astronomia il sistema da una genesi l'ordine da un progresso e la cosmologia nel suo significato letterale di formulazione di un ordine è una scienza non era umano ma qualche anno dopo nel 1814 pubblica un testo al quale lavorava da molto era il calcolo delle probabilità ecco il segreto di Laplace il segreto di Laplace è questo cioè quello di considerare che ovviamente Laplace attribuisce all'induzione dall'analogia l'analogia è fondata per l'appunto sulla probabilità è vero cose simili che hanno cause della stessa genere e producono gli stessi effetti più la somiglianza è perfetta più la probabilità aumenta ma il metodo più sicuro per la ricerca della verità resta l'elevarsi per induzione ai fenomeni dai fenomeni alle leggi dalle leggi alle forze le leggi sono i rapporti che legano tra loro i fenomeni particolari e allora a questo punto però ci dovrà spiegare perché Laplace acquisisce tutta l'opera di Newton e ritiene che non ci siano più discussioni da fare fino a quando non verranno scoperte nuove sconvolgenti che poi verranno ma molto dopo che muteranno le cose e allora questa frase mi sembra che raccolga un po' è questa quando l'immaginazione impaziente di ristrarire le cause ama creare ipotesi e spesso snatura i fatti per piegarli alla sua opera allora le ipotesi sono dannose ma quando si considera dei puri mezzi per collegare tra loro i fenomeni in modo da scoprirne le leggi quando evitando di attribuire loro una realtà le si rettifica continuamente attraverso nuove osservazioni allora possono condurre alle vere cause o perlomeno a offrirci la possibilità di concludere dai fenomeni osservati quelli che date le circostanze devono fare scaturire il punto era che come dire il calcolo delle probabilità consentiva progressivamente di ridurre il peso dell'ipotesi la la falla che poteva aprire un'ipotesi fino a quando il calcolo non consentiva di afficinarsi il più possibile a un'ipotesi che era soltanto una cocitura di due fatti già dimostrati ovviamente il problema dell'ipotesi non finisce qua perché ovviamente voi come sapete in Francia l'argomento continua fino a Poincaré ovviamente io non arriverò là mi fermerò qua erano ipotesi matematiche ma ovviamente era sempre un terreno e io da questo punto di vista i tempi che scorrono mi spingono a passare a un altro argomento che è molto molto importante e è quello ci andiamo avanti con le cose che è quello della delle innovazioni che intervengono nell'ottocento insomma la scienza non è più quella e a dirciolo sono due persone che vivono nella cultura del settecento anche se la loro opera si dispiega nell'ottocento uno è Adam Smith Adam Smith scrive ovviamente la la ricchezza delle nazioni è è un'indagine importante Smith era un filosofo era un filosofo morale è un'indagine importante nel settantasei esce la ricchezza delle nazioni ma avrà un ecco molto forte nell'ottocento perché Smith non sarà un autore simpatico nemmeno agli inglesi ma non perché dicesse cose gradevoli perché poneva un problema poneva il rapporto tra lo sviluppo dell'industria e divisione del lavoro l'economia politica come nuova scienza ma anche l'istituzione dello Stato e della società liberale era uno scolaro di Locke che aveva scritto ricordando la rivoluzione del seicento ottantotto la rivoluzione i due trattati sul governo nei quali ovviamente potremmo andare a rileggerci molte cose che ci interessano tra le quali il consenso le forme della democrazia e la divisione dei poteri era stato lui poi sarà Montasiega che l'approfondisce ma era Locke nei trattati di Locke e Smith riprende questo argomento non mi dilungherò su queste questioni ma ovviamente Smith rappresenta per gli economisti classici inglesi Malthus e quelli che verranno dopo una bestia nera perché in qualche modo insieme a Stuart Mill riteneva che la società liberale dovesse essere sì legata al capitale ma che avrebbe dovuto soddisfare le esigenze del numero di persone il più alto possibile l'abbiamo sentito per televisione anche recente da un signore che ha scritto un libro che si chiama La radicalità e che è un esponente del grande capitale italiano che ci racconta che il capitale italiano ha sbagliato a non fare questo io gli avrei domandato dove era lui perché lui è un altro esponente della vita dei capiti se oggi noi ci torniamo di fronte a una situazione in cui il capitale non riesce a soddisfare le esigenze della maggior parte dei cittadini vuol dire che stiamo in una fase di regressione democratica molto importante a proposito di regressione democratica io ho il campione che è Auguste Comte Comte non è conosciuto dagli scienziati secondo me manco dei filosofi essendo un filosofo è metà filosofo è metà scienziato beh però Comte è quello che ci ha proposto come dire che cos'è la filosofia della scienza era uno scolaro della scuola politecnica non riesce ad andare all'università fa il segretario di Saint-Simon Saint-Simon un personaggio molto importante nella storia economica e sociale francese era l'uomo dell'alleanza delle forze che venivano dalla rivoluzione perché era una società produttiva equa e giusta direi un padre di un socialismo moderato Comte non si capisce bene è all'io di Saint-Simon ma ovviamente la sua storia è una storia complicata direi che fino a quando pubblica il corso di filosofia positiva nel 1830 Comte è un personaggio straordinario dirà si tratta c'è un problema riclassificare le scienze e riclassificare le scienze vuol dire fare in modo che l'attività scientifica proceda in maniera adeguata dai livelli nei quali è possibile applicare il metodo sperimentale integralmente a quelli nei quali invece non è possibile crea una sorta di scala che se vedete bene è la scala dei residui tutto ciò di cui si occupa l'astronomia o la matematica sta lì ciò di cui non si occupa è fisica ciò di cui non si occupa la fisica è chimica ciò di cui non si occupa la chimica è biologia ha inè ciò di cui non si occupa la biologia è sociologia e l'argomento è nuovo Newton non aveva parlato di sociologia Galilei nemmeno manco Keplero probabilmente neanche Copernico quindi l'argomento è nuovo ed è di fondo ed è lo stesso che Smith ha avanzato nella richiesta delle nazioni che succede di queste scienze comp' è molto drastico le scienze devono diventare tutte positive che vuol dire per una scienza diventare positiva acquisire il metodo sperimentale qualcuno ce l'ha già che è l'astronomia che in qualche modo per lui è la matematica è insomma il contenuto di matematiche che fa di una scienza una scienza che avanza e le scienze secondo lui passano attraverso tre stadi uno quello dei principi teologici quando i principi vengono denunciati ma di cui non si sa niente l'altro è quello dei principi metafisici quelli della filosofia moderna in particolare sta parlando di filosofi moderni e poi invece quello dello stadio positivo dove deve dominare il metodo sperimentale e in particolare la legge delle quantità qua nessun problema il problema è che secondo Comte questa teoria stadiale della scienza è in fieri per cui non è detto che la chimica abbia già raggiunto il metodo sperimentale forse neanche la biologia anzi sicuramente no tantomeno la sociologia eppure devono raggiungerlo lo scopo della società è questo quindi a che cosa serve quindi da questo punto di vista acquisire uno status sperimentale per queste scienze serve essenzialmente a una cosa che gli statistici sanno la memoria che anche loro sapevano cioè dire che fa la scienza la scienza osserva poi che fa la scienza la scienza prepara materiali quindi la scienza previene e poi che fa la società agisce quindi azione previsione e sviluppo progresso ecco qui siamo autorizzati a parlare di progresso io questo termine lo userei con grande parsimonia nell'età moderna non lo userei affatto perché userei avanzamento del sapere qua progresso perché il progresso è una legge è la legge che governa alle società e le società devono avere come scopo una scienza che miri all'utile che sia anche rigorosa dal punto di vista del metodo ma che miri all'utile perché il problema è affermare all'interno di una società il progresso sì ma nell'ordine beh se andate a vedere la bandiera brasiliana c'è ancora orden e progresso che ovviamente è un segno della diffusione che il positivismo ha avuto nel mondo è stato il grande regista della scienza dell'ottocento le società americane quando si organizzano quelle sudamericane in particolare sono influenzate dalle attività dalle attività scientifiche ma anche tecnologiche che vengono dalla Francia ehi qual è il problema a questo punto delle scienze sociali è che le scienze sociali devono essere se stesse rigorose quindi per Comte non esiste un problema dello Stato o dell'istituzione non ha importanza se lo Stato è autoritario o meno anzi nella seconda parte della sua riflessione dopo il Trento dirà che deve essere proprio autoritario dopo aver scoperto nel 48 che c'è la rivoluzione alla quale si era in qualche modo associato poi comincia ad avere il timore che il popolo in disordine non produca ordine e quindi sceglie di stare con Napoleone quando Napoleone fa il colpo di Stato in Francia nel 51 l'innovazione contiana però va avanti nel senso che questa idea di Comte fa molta strada e la fa in Inghilterra soprattutto con Mil la fa nel senso del Comte dei primi anni quindi del prima del Trento e quindi verso una società liberale e addirittura lotta per il voto il suffragio generale per cui anche il problema del suffragio femminile viene posto da Mil perché la sua compagna lo poneva politicamente e politicamente lo pone anche lui avendo da cui qualche risultato negativo ma ovviamente il problema fondamentale era quello di una di una realtà che controllasse e infatti la Francia fino alla 1870 ci riesce benissimo perché la rivoluzione del 48 il cambiamento di status del 30 e beh poi la gente sogna il modello inglese in Francia Guizot è il modello inglese quando Marx andrà in Francia e scriverà le lotte di crassi in Francia il nemico chi è? è Guizot perché Guizot è quello che cerca di instaurare in Francia una situazione identica a quella dell'Inghilterra ovviamente perde non ci riesce nel 48 ma perde anche la rivoluzione la quale inventi il suffragio universale senza capire che la Francia era bonapartista e quindi la Francia nostalgica alle elezioni per la conferma della Repubblica vota monarchia cose che succedono e cose che credo tutto sommato bisogna stare attenti sì perché in quel momento la convinzione dopo aver visto sfilare le masse popolari nella Parigi del 48 era che il suffragio universale fosse un fatto fondamentale solo maschile peraltro ed era però l'esercizio del suffragio universale chiedeva delle leggi e delle capacità di conduzione la Francia maturerà dopo 30 anni quando nasce la terza repubblica nel 71 il problema fondamentale sarà come organizziamo il suffragio universale perché nel 48 dopo due anni di repubblica era arrivato l'impero e l'impero rischiava ad arrivare perché la maggioranza dell'assemblea parlamentare francese quando si vota se debba essere democratica o monarchica beh la soluzione presidenziale quella che è dorata fino alla quarta repubblica passa per un voto all'assemblea nazionale un voto un voto di maggioranza determina che la sovranità sarà esercitata dal popolo attraverso il parlamento che legge un presidente della repubblica quindi era lo schema che tutto sommato abbiamo noi nella nostra costituzione ma qual è il problema per concludere su questo argomento il problema è questo che non si fermano le scienze positive gli allievi di Comte non rappresentano non condividono rompono i rapporti con lui io avrei dovuto parlarvi ora di due grandi momenti che però rinvio non so a quando altri lo faranno che era quella della medicina sperimentale in Francia di Goldberg Dard dell'evoluzionismo in Inghilterra che era quello di Darwin sono le due grandi rivoluzioni non è quella di Marx che verrà quando verrà Marx era considerato un economista dai filosofi un filosofo dagli economisti era un grande controversista ma il capitale l'avevano già inventato quindi non era quello che lui inventa è la lotta di classe che è un'altra storia ma che avrà un esito avrà un esito nel secolo successivo non in quello le due grandi rivoluzioni sono queste ovviamente ci sono anche altre rivoluzioni più piccole e io penso a Larvi de philosophie positive che era un filologo lì tre ma poi diventa anche il capo del positivismo liberale e là il problema è questo è che l'antropologia l'etnologia la psicologia tutto quello che poi è stato sviluppato da Canguillen Foucault e dai filosofi e dai filosofi francesi negli ultimi tempi non è una grandissima novità rispetto a quello che era stato già affermato appunto dalla scuola positivistica che si estingue io vi chiedo a questo punto ancora qualche minuto per concludere questa questa riflessione e cioè dire che lo dirò in due parole che la scienza cambia c'è la moltiplicazione del sapere dei saperi però c'è la riflessione industriale quella che va fino al 1830 è quella che va fino alla fine dell'1800 cambia tutto le scienze hanno un dominio a parte non le disturba quasi nessuno alcuni diventeranno famosi dopo molti anni ma ovviamente matematiche la fisica l'astronomia ma quello che comanda è un altro tipo di scienza è la scienza industriale e il problema fondamentale da una parte è l'istituzionalizzazione del sapere c'è a dire le colpolitechniche l'università di Berlino von Humboldt fa un'università che mutua molti elementi dall'istituto delle scienze dove l'accademia per un verso e il segnario dall'altro diventano fondamentali e l'università di Berlino diventa un modello assoluto perché noi in Italia abbiamo discusso mille anni se adottare il modello tedesco quello francese e poi alla fine quando è venuto quello americano morale della faula non abbiamo ancora deciso quindi siamo ancora qua ora l'istituzionalizzazione della scienza crea lo scienziato crea lo scienziato come dipendenti di un'università il gli atta un laboratorio quindi lo scienziato ha dei compiti che non sono quelli solo quelli della ricerca di base ha compiti precisi la ricerca applicata applicata che beh c'è il colonialismo c'è l'espansione c'è l'energia e l'energia è prima il vapore poi il carbone poi l'elettricità poi il petrolio e è intorno a questo che si combatte in Europa e fuori d'Europa quando si costituiscono le nazioni o quando si costituiscono gli imperi coloniali quindi l'istituzionalizzazione della scienza è un elemento cruciale delle due rivoluzioni scientifiche anche nella prima perché le scuole di cui ho parlato sono tutte nate o dalla convenzione dopo la rivoluzione francese ovvero da quelle che sono le esigenze di una società in trasformazione che vuole produrre ricchezze e quindi questa è la scomposizione dell'albero del sapere cioè ovviamente noi da questo punto di vista abbiamo una moltiplicazione delle scienze una perdita di identità delle scienze in quanto tali mi sembra che qualcuno di voi si ponesse un problema l'altra volta perché le scienze hanno sempre bisogno di costruire un sistema aperto chiuso che sia non so se sia un'eredità della geometria platonica non oserei dire questo però ovviamente Newton aveva insegnato molto bene che il problema del collegamento tra le discipline diventa fondamentale l'unità del sapere che si compone e si ricompone e si costruisce e si ripara come diceva Noirat come una nave che è in mezzo al mare e non ha altra via per navigare che ricostruire se stessa nel momento in cui qualche guasto avviene oppure di un mosaico che una volta che acquisiamo una nuova tessera siamo costretti a riguardarlo tutto perché quelle nuove quattro tessere hanno cambiato l'identità complessiva del mosaico questo avviene queste cose vengono dette nel 1936 voglio dire già vicino a noi e allora io da questo punto di vista l'immagine complessa della rivoluzione industriale è questa e in fondo l'uomo era portato a credere a un progresso inarrestabile a una belle epoca che non ha problemi di nulla e invece in Europa arriva la crisi quando arriva la crisi tra i dovere non arriva molto prima arriva nel primo novecento e arriva nel momento in cui a Amsterdam un gruppo di volentorosi che prenderanno il premio Nobel organizza le conferenze mondiali per la pace a Bologna si organizza nel novecentododici il congresso mondiale dei filosofi dove ci sono anche gli essenziali ma dal millenovecentododici al millenovecentocinquantasette non ci saranno più congressi mondiali congressi internazionali la crisi era già incominciata io ve ne porto qualche testimonianza poi con questo assicuro che chiudo la prima questione nel millenovecentosette a Federico Enrique si è ne chiesta una cosa di fare l'orazione inaugurale dell'anno accademico e lui sceglie un tema è il valore della scienza perché sceglie questo tema perché nel frattempo in Francia Brunetere aveva proclamato che c'era stata la bancarotta della scienza e allora Enrique si insiste insiste e inizia già a porre questo problema della crisi era lo specchio del fallimento della sola dimensione della scienza coltivata dalla tradizione positivista ovviamente la colpa viene data al secolo prima ma ovviamente gli effetti erano palesi anche nel millenovecento la quale non ha avvertito dice Enrique i pericoli che venivano da una scienza intesa come unico mezzo per l'azione e strumento dell'utile e non ha saputo neppure porre ostacoli all'empirismo radicale britannico al pragmatismo americano così come non ha colto la contrarietà che venivano dal materialismo storico e dall'idealismo religioso beh non è male come analisi direi del novecentosette nel novecentododici vi dicevo che c'è questo grande congresso e che è importante solo per una cosa perché incomincia in Italia la polemica contro la scienza ecco questo è il punto che volevo sottolineare anche per il ciclo di elezioni che ha organizzato il nostro presidente che vuol dire vuol dire che a Bologna c'è uno scontro che viene fatto per interposta persone come bisogna dire ora cioè nel senso che Croce non viene ma manda Gentile e Gentile ha un confronto con Enriquez che è un confronto molto radicale sul valore della scienza e Gentile dirà che le scienze fisico-matematiche non hanno nessun rilievo che il rilievo del novecento sarà quello delle scienze politiche delle scienze sociali delle altre scienze della filosofia idealistica ma non della scienza e beh questo è dura dura ancora dura ancora perché le forme del pensiero filosofico italiano sono lontane hanno avuto un momento nel quale sembrava che la filosofia della scienza dovesse avere un punto sto pensando a Genata preti sto pensando a quella generazione e no in questo momento vale conta la filosofia delle emozioni contano altre forme di pensiero filosofico la scienza è lontana ma non è finita qua perché la vera crisi la vera crisi ci sarà nel trentasei certo in mezzo alle due guerre trentasei è un anno fatidico e è un anno cruciale nel quale escono due due posizioni una è quella di Husserl che intitola proprio la crisi delle scienze europee il suo libro più importante forse non il più importante uno tra i più rilevanti quelli che hanno avuto maggiore seguito e insomma Husserl dirà che le scienze hanno perso la loro radice filosofica e umana erano diventate mere scienze di fatto cioè cose c'era stata una sorta di reificazione della scienza e dirà che questo ha prodotto anche uomini di fatto uomini reificati e quindi qual è il compito della scienza è quello di riconquistare una sua umanità uscire dalla tecnicizzazione e ricomporre l'albero che ormai non c'è più vedere quali sono i rapporti che si possono porre tra le discipline e soprattutto Husserl scrive quando è in pieno sviluppo la scienza di guerra e sta scrivendo quando c'è il riarmo dell'intero mondo e quindi uno spazio per le scienze sociali non c'era uno spazio per le scienze umane poco per le scienze sociali c'era c'era lo studio degli stati autoritari perché ovviamente nel 36 l'Italia in Europa solo l'Inghilterra e la Francia mantengono uno status democratico il resto no il 36 è la guerra di Spagna il 36 è l'Italia il 36 il 36 è la storia che conoscete e quindi dirà che la tecnicizzazione la specializzazione dell'essenza hanno condotto l'essenza a una auto emarginazione perché il problema non è che continui la terza rivoluzione industriale no no c'è una rivoluzione di guerra questo è il dato che nel 36 e nel 36 a dirlo saranno anche i poveri studiosi del circolo di Vienna perché dico poveri importanti allievi di Ernest Mack di una grandissima scuola scientifica e filosofica che vanno via dall'Europa vanno tutti in America e ovviamente Carnap e Neurath che è il Slic e tutto il gruppo inventerà addirittura una società per la scienza unificata che nel 1936 anno della nascita di Cartesio farà nell'aula Cartesio della Sorbona un grande convegno per dire che la scienza è dell'uomo e l'uomo è disposto come dire a sacrificarsi per lei ma l'epoca non è un'epoca facile tant'è che Carnap va in America e Neurath va in America poi in America hanno le loro avventure vi consiglio di leggere il libro Il Mago che racconta la storia di Thomas Mann quando va in America per cui capirete anche che un personaggio moderato come Thomas Mann dopo la fine della guerra si troverà a fare i conti col maccartismo come loro si trovano a fare i conti con una situazione che li ha ospitati esuli e li vuol mandare via perché ovviamente in quel momento la guerra fredda ha le sue esigenze che fare allora io in questo ho terminato beh intanto recentemente c'è stato chi ha proposto un manifesto per un ritorno della scienza pura è l'ASPEN internazionale che ha proposto questo argomento non mi sembra un argomento in questo momento così forte però intanto è un passo che viene proposto poi c'è un problema abbiamo sentito ieri sono l'altro ieri che sono venuti due il presidente degli invalsi e il professor Bolondi i quali ci hanno spiegato qual è la condizione della scuola italiana ecco io credo che chi pensa che la soluzione possa essere nell'insegnare il metodo sperimentale agli studenti italiani rischia di scalare una montagna di non arrivare mai neanche a un quarto della sua altezza perché perché la scuola è un fenomeno sociale generale non coinvolge solo gli studenti coinvolge l'intera società e perché i ministri che cambiano ogni due anni non hanno nessuna possibilità di cambiare questa scuola l'unico che ha avuto modo di cambiare è stato Gentile ma Gentile era il ministro di uno stato autoritario che ovviamente aveva il problema dello stato etico quindi non era e devo dire che la riforma Gentile poi qualche frutto positivo l'ha anche dato perché studiare a scuola è sempre un fatto positivo quindi non credo che sia questo io credo invece che sia un'altra cosa che rischia di essere però messa continuamente in pericolo la questione che si sta riaccentendo ora tra i virologi non sarà vantaggiosa per la diffusione dello spirito scientifico abbiamo già visto che non appena il magistrato ha fatto un passo sono scesi in campo quelli che dicono sbagliato quelli che dicono ma non potevano gli altri che dicono allora Inovac ha ragione quindi noi siamo di nuovo di fronte a una discussione come quella che abbiamo fatto non è questo io credo che sia un problema invece di alta natura e ho concluso davvero la scienza per sua vocazione è universale noi dobbiamo affermare questo che è nelle società libere che nasce la scienza quella che non ha soltanto finalità di ordine economico e il suo punto di riferimento sono tutti sono i mezzi di comunicazione di massa sono tutti quelli che hanno una responsabilità ma perché mai un giornalista che dice alla televisione le sue opinioni deve avere un senso di responsabilità inferiore a quello di un professore che insegna nella scuola la televisione pubblica dà uno stipendo come lo dà ai professori parlo della televisione pubblica non voglio parlare di quella italiana quindi a mio avviso il problema è quello di uno sforzo collettivo per modificare il senso comune è il senso comune come ci hanno dimostrato le statistiche che abbiamo visto che in Italia come dire è disposto a recepire tutte le fake news e quindi io concludo dicendo che insomma il punto di riferimento la scienza deve tornare a essere e si è andata a leggere i testi di Ursula e di Cassire su questo sono molto chiari siamo a metà anni trenta come vi dicevo perché la scienza è un fattore di è un fattore molto importante di emancipazione di sconfitta del pregiudizio della celebrazione della dignità della vita e del lavoro e della libera determinazione dell'uomo se noi facciamo questo sforzo nei confronti della modifica del senso comune non riusciamo d'altra parte credo che non sia a noi ignoto che nei primi anni del novecento gli psicologi hanno acquisito una fama quando scrivevano i libri sulla psicologia delle folle come si fa a convincere le folle di determinare come si fa a cambiare il senso comune e ovviamente gli strumenti che sono stati poi messi a punto in quegli anni erano strumenti che avevano un solo compito è quello di uniformare il senso comune alle idee generali che in quel momento lo Stato quello Stato etico quello Stato autoritario pretendeva di di affermare vi ringrazio per l'ascolto io ho finito